Un monitoraggio più frequente del cantiere dell'interramento ferroviario di Andria e quanto ha chiesto alla polizia locale l'assessore all'ambiente del comune Savino Losappio dopo l'incontro tenuto ieri a Palazzo di Città con l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente e la ASLBT. L'incontro, convocato dal sindaco Giovanna Bruno, si è reso necessario per un atteso chiarimento sui dati registrati nel corso del 2022 dalla centralina di rilevamento situata in via vaccina che hanno posto Andria nella top 10 della non certo lusinghiera classifica delle città più inquinate d'Italia redatta da Lega Ambiente. In base ai dati pubblicati dall'ARPA Puglia infatti Lega Ambiente ha inserito la città federiciana nel report dall'inequivocabile titolo malaria ma quei dati sono stati poi cancellati dalla stessa ARPA perché ritenuti non attendibili proprio perché influenzati dalla presenza del grande cantiere dell'interramento ferroviario. Di un inutile danno di immagine per la città ha parlato la sindaca Bruno che punta il dito contro Lega Ambiente che ha estrapolato questi dati prima ancora del compimento di tutti i passaggi dovuti e che sono culminati con la cancellazione operata da ARPA perché come detto quei dati non sono attendibili considerato che la centralina è stata sostanzialmente inglobata nel grande cantiere. Che è un elemento non certo da sottovalutare però perché la centralina in sostanza rileva gli effetti del cantiere su questa parte importante della città. Il tracciato ferroviario attraversa tutto il centro e le polveri che si sollevano si diffondono inevitabilmente su una consistente fetta dell'abitato coinvolgendo case, scuole, negozi e molto altro. Un fatto di cui prendere atto è che l'assessore Lo Sappio ritiene di dover approfondire per questo ha annunciato anche un confronto con Ferro Trambiaria e Consorzio Integra per concordare ulteriori iniziative di attenzione alla gestione del cantiere.